Preres Roma Capitale 2021, questo è il titolo dell'iniziativa in programma Roma nel nono municipio, domenica 21 novembre, promossa da Master di secondo livello in Prevenzione, Management dell'Emergenza e Protezione Civile dell'Università Lonsa. Il progetto in questione, annunciato la scorsa estate, consiste in un'esercitazione di cittadinanza attiva e protezione civile che si terrà in vari siti dislocati, soprattutto nel quartiere Eur. Tutto nasce dalla volontà di promuovere la cultura della prevenzione e della resilienza, mettendo al centro gli studenti e le persone più anziane, così da farli sentire veri protagonisti dell'accambiamento culturale. Va cambiato il sistema. Il sistema che la Lonsa e che la Roma città metropolitana ha voluto mettere in piedi, parlando proprio di pianificazione del territorio e gestione del territorio, debba essere trasmesso alla scuola. Ma questo processo era già iniziato attraverso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che ebbe l'intuito proprio di voler cominciare questo processo MIUR-Protezione Civile facendolo diventare proprio in senso positivo l'educazione civica, cioè educazione territoriale, resilienza, conoscere il proprio territorio e conoscere i rischi sul territorio. Il Comune di Roma dovrà fare un grande lavoro perché in questa area, che è la nonna circoscrizione, sicuramente con rischi inferiori ad altri quartieri di Roma, avrà l'obbligo, insieme al proprio personale, sia a livello centrale come sala operativa, come centro operativo comunale del Comune di Roma, ma anche come città metropolitana nel suo interland ed anche nelle altre circoscrizioni, avviare questo processo con le varie scuole. Agli studenti delle classi dei master il compito di organizzare l'esperienza per i cittadini, collaborando con il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, protagonisti soprattutto i ragazzi, visto il coinvolgimento degli studenti di quattro istituti comprensivi e quattro istituti superiori della zona, eppure le invita a partecipare, rivolto anche agli adulti. Abbiamo avuto la protezione civile che ci ha formato riguardo ai temi della gestione del rischio e della gestione delle emergenze. Una giornata che ha visto gli studenti parte attiva di questo incontro e gli stessi ragazzi che parteciperanno ad una attività, la prima attività relativa alla gestione delle emergenze che si svolgerà nel municipio Nono, all'Eur, il 21 novembre. I ragazzi si sono emozionati a sentire i racconti di Piero Morsgardini e porteranno con loro sicuramente il ricordo di una giornata piena. Questa è la protezione civile, questo è il tema della sicurezza, una cultura che sempre più deve far parte dei programmi scolastici a partire dai primi gradi dell'istruzione, se vogliamo poi avere dei tecnici pronti e preparati a gestire le emergenze che molto spesso trovano il nostro territorio non preparato. Al momento dell'ora arrivo i partecipanti saranno accolti dagli iscritti ai master, così come dalla personale di Roma Capitale e dai volontari che parleranno a lungo di prevenzione e resilienza. Al termine delle prove ci saranno delle riunioni per verificare gli eventuali interventi migliorativi da portare al piano di emergenza, relazionando poi l'amministrazione comunale sui risultati raggiunti.